Era il 23 maggio 1992, una giornata terribile perché fu una delle più tragiche mai scritte della storia italiana. Esattamente 23 anni fa, a Capaci, ci fu la strage mafiosa in cui morirono il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta del magistrato. Non passarono nemmeno due mesi e un altro, vile attentato, quello in via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita il giudice Borsellino e cinque suoi agenti della scorta. Tutto fu opera di Cosa Nostra, tutto bisogna ricordare. E proprio per rendere omaggio a loro, al sacrificio di questi coraggiosi e valorosi servitori dello Stato, oggi, per il 23esimo anniversario della strage di Capaci, dai convegni allo sport e alla musica, sono diverse le iniziative in programma, tra cui quella che vede a Teramo Luca Tescaroli, il pubblico ministero che rappresentò l'accusa nel processo ai mafiosi autori della strage di Capaci, ottenendo 24 condanne all'ergastolo. Oggi è sostituto procuratore a Roma, dove segue, tra le altre indagini, l'inchiesta Mafia Capitale. È importante che tutti i cittadini possano ricordare quello che è avvenuto per rinnovare un impegno per contrastare e arginare il dilagare del crimine mafioso, in modo che si possano concretizzare le parole semplici di Giovanni Falcone, il quale diceva che la mafia è un fenomeno umano che ha un inizio ma che avrà anche una fine. Cosa si potrebbe fare ancora che non è stato fatto fino ad oggi? Credo che una via importantissima sia quella dell'aggressione al patrimonio mafioso. Implementare lo sforzo per individuare, sequestrare e confiscare i beni è una via importantissima. Come Rotary Club di Teramo abbiamo organizzato questo evento. essenzialmente noi riteniamo che ci siano dei momenti nella struttura sociale del nostro paese che vanno ricordati, in particolare perché sono entrati non solo nella storia ma nella memoria collettiva come passaggi epocali.